Un gruppo secondo me molto importante e speciale per la collezione Casa Dei 2013. Questo anello è un simbolo che naturalmente rappresenta poi nella nostra vita qualcosa di speciale, un momento da ricordare, da incorniciare alla nostra vita. Noi l'abbiamo incorniciato e inserito nei nostri infraditi. Naturalmente Casa Dei non poteva mancare l'interpretazione con il tacco alto. Qui lo vediamo sulla scocca Blade, naturalmente in cuoietto naturale, dove naturalmente il colore ciliegia fa da padrona e addirittura la pietra è rossa come la ciliegia. Qui invece lo vediamo interpretato, come dicevo prima, nella single sole flat, un infradito dove la zeppa trasparente dà altezza ma scompare allo stesso tempo. Qui abbiamo voluto inserire l'ingegneria su qualcosa che portiamo tutti i giorni, qualcosa di semplice, facile, il flat, ma interpretato in una maniera ultramoderna e assolutamente unica. Grazie! 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 Grazie!